Dell'ingegner Riemer posso dire che era una bravissima persona, un padre di famiglia e che amava gli aeroplani come figli. Ecco, come figli proprio l'ingegner Riemer ho conosciuto anche l'ingegner Palanca che era il capo dell'ufficio tecnico, tant'è vero che ho dei libri suoi scritti ancora all'epoca quando batterono la Coppa Snyder. Insomma, ho vissuto la mia vita aeronautica all'inizio all'Alitalia con dei personaggi che oltre che formarmi tecnicamente anche da uomo, veramente, era la prima cosa. Tanto Velani ci aveva detto mi raccomando perché portate la divisa e la bandiera italiana che portate in giro nel mondo. Tanto è vero che, se ben ricordo, aveva fatto l'impermeabile senza bottoni perché doveva essere allacciato con la cinta, cravatta, cioè ci teneva in modo particolare il cappello. Eravamo un po' militarizzati, ecco, però ci faceva piacere, almeno a quel tempo era così, eravamo, forse era la gioventù, non lo so.